Web TV del giovedì, come vedete c'è Maria Cristina in collegamento. Ciao Maria Cristina. Ciao, ciao Simo. Condichiamo la nostra puntata oggi, giovedì prossimo, al tuo rapporto con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Iniziamo con Raimondo Vianello perché è lui che hai visto per primo della coppia. Sì, ho visto Raimondo perché la storia andò così. Io avevo fatto una serie prima italianico e 3-3 per cui dovevo fare una puntata e poi ne ho fatte 13 perché era proprio una roba a la Rimbaggio e gli attori dovevano reggere il ritmo che era una cosa assurda. Volevano consegnare una puntata al giorno a Berlusconi e quindi da lì poi passano sei mesi e mi chiama l'ufficio casting di Canale 5. C'è una signora che adesso è andata in pensione che si chiama Gianna Tani, famosissima casting di Canale 5 a Milano. E dice guarda vieni Maria Cristina perché Raimondo sposta Casa Vianello da Roma, avevano fatto una stagione, vengono a Milano e cercano gli attori su Milano. Vieni a fare il provino. Sì, sì, va bene, insomma. E c'era qualsiasi cosa, top model, cioè proprio delle robe pazzesche. E io dico vabbè, ok, facciamo questo provino. E c'era Raimondo a fare i provini direttamente perché poi nella serie bisognava intire agire con lui, con Sandra. Ma era da solo o con gli altri autori come Gian Battista Bellino e gli altri? Questo io del provino non me lo ricordo, probabilmente c'erano anche loro perché era proprio già nello studio di Canale 5, c'era già il set praticamente pronto. Cioè quindi tu avevi già il divano di Casa Vianello lì? C'era il divano di Casa Vianello e il provino era proprio alcune scene del divano e quindi io istintivamente ho avuto un feeling immediato con Raimondo e ci siamo divertiti un sacco a fare sta scena perché chiaramente il personaggio era quello poi, era Valeria Perini, quindi era Civettuola, era una insomma che flertava. Sì, insomma Raimondo doveva flertare con te praticamente in quasi tutti gli episodi della seconda stagione di Casa Vianello. Sì, sì, ma non era difficile perché dico Raimondo è un signore, è stato un gran signore e quindi era divertente ma aveva un modo di porsi di classe, era un uomo di classe. Sì, sì, ma senti ma da ragazza, da giovanissima come sei entrata dentro a Casa Vianello, con Raimondo Vianello hai avuto timore reverenziale o comunque insomma un po' ti tremavano le gambe o no? Ma ti dirò che è buffa sta cosa strana, mi sono sentita a mio agio, cioè mi ha messo a mio agio lui in quella situazione e ha visto, io comunque un background venivo già perché avevo fatto la scuola di teatro di Bologna della Galante Garrone che è una scuola famosa che sfornava molti comici. Quindi diciamo che avevo appena finito la scuola, ero arrivata a Milano da sei mesi, mi ricordo un periodo breve e quindi avevo questa cosa della comicità e quindi diciamo che lui si è trovato e io anche a interagire con qualcuno che conosceva esattamente quello che stavamo facendo, cioè lui ovvio ma io insomma e quindi no, non avevo timore reverenziale, forse un attimo di emozione. Maria Cristina quando hai capito che saresti stata scelta per fare l'attrice a Casavianello? Non l'ho capito subito, mi sono solo chiamata via divertita e poi si vabbè prenderà me, c'era, non so, c'era ne ho mica anche. E poi nel set quando registravate gli episodi di Casavianello lui si fermava un po' a parlare con voi prima, dopo, com'era Raimondo? Era sempre molto cordiale ma molto professionale, quindi diciamo che interagiva un pochino eccetera, però insomma non è che diventava un amicone, lui era amicone sul set proprio, perché questo una persona di estrema intelligenza lo sapeva che tu quando tutti gli attori che ti stanno intorno stanno bene e si divertono, comunque sono a loro agio a lavorare con te, stanno meglio tutti. Era più severo o più dolce nel lavoro? No, era dolce, era molto carino, però devo dire che non credo che nessuno gli abbia mai creato almeno degli attori che ho conosciuto io su set, a parte che erano tutti anche dei gran professionisti, per cui insomma, ma nessuno mi ha creato mezzo problema. Tranne, ecco questo però riguarda Sandra, il fatto che io rubavo le olive e Sandra anche. Allora settimana prossima, giovedì prossimo, facciamo la seconda parte di io e Raimondo e Sandra e così mi parli del tuo rapporto con Sandra Mondaini. Nel mentre ricordo anche l'appuntamento di ogni lunedì qui sul nostro canale con Sport TVissimo, la versione estiva va in onda alle 22.30 in diretta. Maria Cristina, allora lo giovedì prossimo con Sandra. Va bene, d'accordo. Ciao, alla prossima.